Aveva ricevuto il reddito di cittadinanza per un totale di 11.345 euro, ma aveva dichiarato in modo non veritiero di risiedere in Italia da almeno due anni in modo continuativo. Un uomo è stato smascherato e denunciato dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Pesaro, che ha condotto le indagini in stretta collaborazione con l'Inps. Il soggetto, inizialmente iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero perché emigrato in Venezuela nel 2012, era rientrato in Italia a fine luglio del 2017 e nell'aprile del 2019 aveva richiesto il beneficio, dichiarando quindi un periodo di residenza maggiore rispetto a quello realmente trascorso. Per ottenere il sussiedio sono infatti necessari almeno due anni di residenza sul territorio nazionale antecedenti al momento della presentazione della domanda. Nella realtà dei fatti, invece, l'uomo era tornato in Italia soltanto da 21 mesi. Tale falsità ha consentito alla persona di percepire indebitamente nel 2019 e mantenere nel 2020 il reddito di cittadinanza, per un importo complessivo superiore agli 11.000 euro. Il soggetto, non avendo dunque i requisiti per beneficiare dei sussidi statali, è stato segnalato sia all'autorità giudiziaria che all'Inps, per la revoca del sostegno e il recupero della somma incassata.